Eccoci qui in un nuovo video, sono Timone dei Bianchi e oggi raga video spettacolare Allora ragazzi, come ve lo dico io, cioè non potete vederlo, però beh, guardate, sono macchinetto Sono appena arrivato davanti i casi di Simone con le case di Simone E niente, allora, in poco però, le settimane scorse mi sono organizzato con la madre di Simone Mi ha lasciato le chiavi della casa di Simone, e niente, voglio fare un prank a Simone perché mi devo vendicare Voglio entrare in casa sua e nascondermi lì finché, diciamo, non mi trova Quindi raga, andiamo, tanto c'ho questa luce enorme che mi spara addosso E comunque, ci vediamo astronauti Ok ragazzi, sono, l'ho chiuso, ok, ora è chiuso la macchina, attenzione la macchina qui, se no ci investono Beh, qui posso parlare formalmente, davanti sta dentro, sicuramente starà, può sentire la musica a Montellino, sicuro Avriamo, vediamo le chiavi, riesco a capire quale è la chiave Ah, è questo, ok, a posto, ora devo stare un po' attento perché Ok raga, hashtag suono fastidioso Dobbiamo aprire pure questa di volta E fate silenzio che sto a girare il video Ok raga, siamo in tempo Yes Ehi, posso scrivere, posso scrivere Ehi, ehi, yes Ok raga, siamo arrivati In questo caso di Simone, dobbiamo aprire Non so quanto potrà riuscire perché è difficile, ma facciamo senso Ragazzi Allora raga, come potete vedere qui ci sta Il fratello di Ma devo tipo nascondere a qualche parte, non so dove Quindi raga, non so dove nascondo, dove mi posso nascondere? Però sai che possiamo fare? Chiamolo in cucina Lo chiamo in cucina e dici ti voglio prendermi qualcosa Io entro e mi nascondo Andrei tutti a seguire Alessio Alessio per giù Guarda il fisico No, tu gli devi tipo di Non lo so, vai a mettere sull'acqua E te non hai mangiato o qualcosa del genere Invece è qualcosa Lui è Andrea, io passo E mi va a nascondere a qualche parte Solo che non so dove nascondermi Non so dove nascondermi In camera nuova Ah sì, ce l'ho giù Asimo E vai a mettere la mano del fuoco Eh? Via, a mettere la mano del fuoco Non fa l'incorso Non fa l'incorso Ma rica, ti vedremo Va a fare la doccia Perfetto Ma rica non mi vedete C'è una luce qua dentro Ok, perfetto Però chi ti amo qui? Tanto non mi sente Lui sta in cucina Ok, rica Allora Niente, mo starò qui Tutto il tempo Sperando che non entri qui Frigati Alessio Mi sta urrà Alfredo Wow, vabbè Hashtag simusia anche per questo video Così posso guardarla bene Perché a me sta la musica Questo non mi sentirà male Ok, rica Lui sta a montare i video Sta a ascoltare la musica a palla Qui ci sono le scarpe, rica E quindi, niente Dovrò sta Che ore sono? No, ho il telefono Scarico oggi E dovrò aspettare Che mi so Simone Andrà da qualche parte E niente, ragazzi Ci vediamo fra un po' A few moments later Vediamo Vedio, vedio, vedio Ha sprocato Ha sprocato, ha sprocato È andato a mangiare Madonna Mi l'ho cagato Magari, stava montando La casa abbandonata Stava anche montando Il video Nella conoscenza E l'ho lopo Non l'ha visto Se non l'avete visto Andate a vedere Un po' ritorno là dentro Perché Se esci di boso Cavolo Non so che Nesta un po' qua Tanto ci metterà 20 minuti per mangiare Ragazzi Vediamo fra un po' Oddio Madonna Madonna Stavo perso Sgamato da Simone Meno male Che sono entrato in tempo Comunque Ragazzi Mamma Non mi sto cazzo Calcolate che Con la madre Mi sono organizzato Dio resto Fino a tipo Alle due di notte Quindi entro Quando lui sarà a dormire Insieme al fratello Faccio prendere un colpo Ragazzi La cosa più bella Di tutti Quindi ragazzi Si vediamo fra poco E se ci stanno novità Vi chiamo Dunque Hashtag Simone Fallito Perché Simone È molto fallito Perché è stupido E perché Sta per ricevere un bellissimo prank Poi ragazzi Raggiungiamo i 5000 like Per un prossimo video E niente Vi voglio un sacco bene Quindi iscrivetevi Ricordate che Seguitemi su anche su Instagram Ci vediamo fra poco Appena ci stanno delle novità Appena spengono la luce E vanno a dormire Vengono la faradoccia Ragazzi Si sta andando a faradoccia Perfetto Sì ragazzi Si sta a faradoccia Possiamo andare a mangiare Ma quello che ci vale Ok Si sta a faradoccia Che fallissimo Che fallissimo Che fallissimo Yes Bravo che copia di compiti Ragazzi Copia di compiti anche voi Che no non è vero Comunque Come sei andata a faradoccia Dunque raga Sono bemmato a prendere qualcosa da mangiare Perché se esci dalla duccia Non ne accorgo Non è vero E vado a prendere la roba da mangiare E poi ritorno da dentro Buoni compiti Guardate 5 No No Yes Ah Abbiamo anche scelta Ho bemmato qualcosa da mangiare Ma la porti là Ok raga Sono bemmati Io ho preso Le cose da mangiare Perché In realtà Se così non ce la faccio E appena uscire dalla duccia Vedremo E riattiverò La telecamera Intanto Intanto buon appetito Continuo a mangiare No raga Proviamo a vedere Io non tanto ho finito a mangiare Eh Stamattise non finire E quindi niente Aspettiamo che Vanno a dormire E poi Adesso adesso Sta andando a dormire Perfetto Appena spengono tutto Uscirò Io farei un scherzo Sta andando a dormire Allora raga È passata Non so Un bel po' a tempo Perché Non sento più rumori Quindi penso Siamo andati a dormire Ma provo a vedere Sono stanchissimo Ok raga Ma arriviamo a scuola Di più tardissimo Mettevo luna di notte Adesso prendo un bicchiere Io vado a tirare Tossa Simone Ma dobbiamo fare un sacco Di silenzione Perché Simone Dovete capire Lui sente Tutto la notte Ok Andiamo Pettiamo la nuova 3 3 2 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 Per sapere tutto Io mi sono organizzato Una settimana Qua con tua madre Io mi hanno lasciato Le chiavi su di casa E niente Un po' quello le Dove sei stato Tutto sto tempo Io stavo dentro Allo sgabbuzzino E ho visto Che ti facevi la tuccia Se mangiavate Ma dovevo passi Venti Se svegliate Non so neanche Che fossi qua Simone Arigà Tu hai fraccicato Hashtag Scriviti per questo video Guardate Arigà Le due di notte Hashtag Piggiava Di Dai Simone Come si chiama Hashtag Mr. Bean Scusami ma tu Come dormi Ma a casa Io vado qua Ma ti vedi Io lo farei in letto Bella Io vado Alla estra Che è il più bello Lava di questo culo Guardate Tutto a magliare Oh Ma che sei scemo Porccato Raga Sporccato Fatti i cinque Anche se t'ho svegliato Pure a te Però fatti i cinque Ma te Tu l'hai No ormai Mi fai venire il video No te l'hai Allora ragazzi Oddio scusa No sono le due di notte Stupato Passa Mi hai fatto Oh mi hai fatto male Ho fatto male Aia Ok ragazzi Per questo Oh io Lo quanto mi pare Sì Allora ragazzi Per questo viene tutto Raggiungiamo Guardi là Che dico Timo Quanti like Oh quanti like Che ne sono Ma l'hai asciugato Poi te Guarda chi schifo Io ancora tutto Pratico Guardate Quanti like Timo Minimo 5 mila Per questo video Ricordatevi di iscrivervi Di andarmi a seguire su Instagram Simone De Bianchi Di andare a seguire Simone Cargine Di andare a seguire La nostra pagina Simone sì Oh che passa Oh sì Turlo quanto mi pare Quindi per questo video Sgravato è tutto Dammi un bacetto No me lo dai tu a me Dai il bacetto Di Simone Bene regalo Buonanotte Buonanotte No Buonanotte Buonanotte Buonanotte